Il rapporto tra Dante Alighieri e Firenze non è mai stato semplice, si tratta di un grande amore che si è spezzato il 10 marzo 1302, giorno in cui il sommo poeta venne per motivi politici esiliato per sempre dalla città. Da quel giorno cominciò per Dante una peregrinazione che lo portò in giro per tutta Italia, un lungo esilio durante il quale scrisse la sua opera più importante, la Divina Commedia. Più volte tentò di far ritorno nella sua amata Firenze senza però mai riuscirci. In occasione dei 700 anni dalla sua morte una mostra al Bargello, sede nel Medioevo del Palazzo del Podestà dove proprio nella sala dell'udienza venne pronunciata la sentenza del suo esilio, arriva una mostra che vuole raccontare come artisti, scrittori e poeti hanno tentato nel corso dei secoli di ricucire questo rapporto lacerato dalla storia e restituire al poeta la dignità e importanza di cui è stato privato a causa delle ripetute condanne. Siamo particolarmente lieti che oggi finalmente, dopo due posticipi, si apra la mostra Onorevole Antico Cittadino di Firenze, il Bargello per Dante. È un progetto che ha avuto una gestazione di tre anni e che è stato possibile realizzare grazie ad una collaborazione istituzionale con l'Università di Firenze, in particolare grazie all'eccelso lavoro dei tre curatori, Luca Zetta, Teresa De Robertis e Sonia Chiodo, tutti e tre docenti dell'Ateneo Fiorentino. È stato un lungo percorso che ha visto affiancate le due istituzioni e i curatori hanno concepito un progetto scientifico non solo di alto livello per gli specialisti, ma hanno anche raccolto la sfida di raccontare la primissima ricezione di Dante a Firenze al grande pubblico. L'esposizione fino all'8 agosto porta nel Museo Fiorentino oltre 50 tra manoscritti e opere d'arte provenienti da biblioteche, archivi e musei di assoluto prestigio internazionale, come la Biblioteca Apostolica Vaticana, la Biblioteca Nationale de France di Parigi, l'archivio i Biblioteca Capitulares di Toledo e il Metropolitan Museum of Art di New York. Gli autori sono copisti, minatori, commentatori, lettori, volgarizzatori che si sono riappropriati di Dante e della sua opera più importante, la Divina Commedia. È grazie a loro se le opere del poeta sono arrivate fino a noi. Quando noi leggiamo la Commedia di Dante non leggiamo soltanto un libro, ma leggiamo un libro così come ci è stato consegnato da una storia lunga sette secoli. È una storia che ci restituisce un Dante poeta fiorentino. Ma quando Dante diventa poeta fiorentino? Perché a ben pensare dopo la sua nascita e dopo la cacciata in esilio Dante scriverà la Commedia fuori da Firenze e addirittura negli ultimi anni della sua vita rinnegherà in qualche modo le origini fiorentine. Si dichiarerà fiorentino per nascita ma non per costumi. Questa mostra, onorevole e antico cittadino di Firenze, Il Bargello per Dante, racconta come Firenze subito dopo la morte del poeta si riappropriò della memoria di quest'uomo e si riappropriò della sua opera raccontando e diffondendo per l'Italia quello che è una narrazione posteriore alla morte di Dante. Dante torna a Firenze come libro attraverso il suo libro più importante che è la Commedia ma non solo attraverso la Commedia. La diffusione di questo testo avviene grazie a una rete di botteghe o di personalità di singoli copisti che sono in grado di produrre nel giro di pochi anni, in fondo sono 25 anni quelli di cui parliamo, numerosissime copie della Commedia. A noi ne sono arrivate di sicuramente fiorentine e di sicuramente di questo periodo almeno una sessantina. Proprio al Museo del Bargello, nella Cappella del Podestà, si trova uno dei più noti ritratti di Dante. Solo pochi anni dopo la morte del sommo poeta, Giotto con la sua scuola realizzò il suo ultimo capolavoro pittorico, ancora poco noto al grande pubblico, e ritrasse per la prima volta il volto di Dante, includendolo tra le schiere degli eletti nel paradiso. Questa mostra è stata l'occasione, credo, per rivalutare e per riconsiderare sotto una luce diversa questo straordinario monumento che possiamo definire, credo alla fine, un capolavoro misconosciuto di Giotto che ritrova una nuova dimensione, una nuova chiave di lettura. L'occasione è stata la celebrazione del centenario dantesco e quindi il punto di partenza del lavoro che abbiamo condotto è stato naturalmente il ritratto, fino a qualche tempo fa, il presunto ritratto di Dante che si conserva in questa cappella.